Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Siamo pronti per cominciare questo nuovo appuntamento di Segnavie, orientarsi nel mondo che cambia, come sapete il ciclo di conferenze organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. È il secondo appuntamento per quest'anno e parleremo di un tema che ci riguarda veramente tutti molto da vicino, perché sono sicura che tutti avete in tasca un telefonino o meglio uno smartphone e che tutti avete una vita digitale oltre che una vita reale e non c'è più ormai distinzione fra quello che accade offline e online e questo come cambia le nostre vite? Ne parleremo questa sera con il professor Luciano Floridi che è arrivato dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna a qui da noi per tenere questa conferenza. Ma prima di cominciare, come sempre, il saluto del Presidente Antonio Finotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Buonasera Presidente, ben trovato. Benvenuto. Grazie a lei per essere con noi questa sera e grazie al gentile pubblico che ci onora con la sua presenza. Ci sono ancora diversi vuoti al di là delle prenotazioni che abbiamo ricevuto, ma siamo speranzosi. Magari è il tempo che sta tenendo lontano qualcuno. Buonasera a tutti, ben ritrovati. La dottoressa Trevisi ha già ricordato che questo è il nostro secondo appuntamento appunto del ciclo di conferenze della nostra fondazione che abbiamo chiamato sin dalle origini insegnavie. Stasera ospitiamo, come già stato ricordato, un autorevole studioso che vive e insegna tra l'Italia e la Gran Bretagna. Do quindi il più cordiale benvenuto al Professor Luciano Floridi dell'Università di Oxford, dove insegna filosofia ed etica dell'informazione. Due discipline che ha contribuito a fondare e strutturare. Professore, l'ho già ringraziata prima, ma vi fa piacere ringraziarla di fronte al nostro pubblico. La ringrazio infinitamente per averci onorato di questo suo impegno. So della sua agenda molto complicata e molto complessa. Ne abbiamo una prova questa sera, visto che poi ci deve lasciare anche immediatamente dopo la conclusione del nostro incontro. Quindi un grazie veramente particolare per essere con noi a Padova stasera. Del tema, oggi ce ne rendiamo conto tutti, non è più possibile distinguere chiaramente tra vita reale e vita digitale, tanto che, come sostiene appunto lei, il Professore, viviamo costantemente on life. Una parola molto difficile che indica peraltro la commistione tra l'esperienza del mondo fisico e quella del mondo digitale, l'ha ricordato la nostra presentatrice Orora. Che piaccia o meno, questa è la condizione nella quale ci troviamo a vivere. Non possiamo non rispondere al principale interrogativo, peraltro, che questa particolare condizione ci pone. Cosa significa essere umani nella nostra era iperconnessa? Bella domanda. Certamente non facile, che va oltre i confini della tecnologia per arrivare all'essenza della condizione umana. Una domanda che richiede per l'appunto la risposta di un filosofo. Prima di lasciare la parola al nostro gratuitissimo ospite, vi ringrazio voi per la vostra presenza, ci fa sempre immenso piacere e ci onora ormai da parecchi anni. Quindi grazie infinite e quindi buon ascolto. Grazie. Grazie presidente. Sì, grazie. Dunque, allora abbiamo detto il professor Luciano Floridi, come ha ricordato il presidente, insegna filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, dove vive. Ha ricoperto la cattedra di ricerca in filosofia dell'informazione e la cattedra UNESCO in Information and Computer Ethics dell'Università di Erforshire. È stato fondatore di IEG, gruppo di ricerca interdipartimentale sulla filosofia dell'informazione all'Università di Oxford e del GPI, gruppo di ricerca di filosofia dell'informazione all'Università di Erforshire. Dallo scorso gennaio è uno dei sei membri dell'Ethics Advisory Group, istituito dal Garante Europeo per la protezione dei dati. E quindi siamo pronti ad ascoltarlo. Vi ricordo naturalmente che siamo digitali e che quindi siamo in diretta a Twitter con l'hashtag Segnavie in diretta su Facebook e che naturalmente questa conferenza viene registrata e la potrete ritrovare sul sito di segnavie.it. Al termine della conferenza, come sempre, apriremo alle vostre domande, quindi siete tutti invitati a preparare alcune domande che, vi raccomando, dovranno essere sintetiche. Signore e signori, Luciano Floridi. Buonasera e benvenuto a Padova. Grazie, grazie. Buonasera a tutti voi che siete stati così coraggiosi e coraggiose nei confronti del tempo. Sembra di stare in Inghilterra con questa pioggia qui fuori. Allora, la serata, nonostante quello che voi possiate aspettarvi, sarà difficilissima. Quindi il momento di uscire è ora, perché sarà una cosa noiosa, faremo filosofia, tratteremo di cose complicate. Per chi invece, avendo il coraggio della pioggia fuori, ha anche il coraggio delle idee, allora restate, perché adesso copriremo degli argomenti che dovrebbero interessarci. Allora, dato questo avviso, il tema è particolarmente difficile, perché non è stato trattato prima. In genere i filosofi, quelli soprattutto di Oxford, hanno la vita facile perché qualcuno qualche cosa l'ha già detta, che so, sulla causalità, sulla sostanza, sulla vita, su Dio. E allora uno va a leggere, poi studia, raffina. Ma sulla rivoluzione digitale, a chi ci possiamo appellare? Dov'è la mia bella lista bibliografica, dove vado, studio, leggo e poi dico, ma secondo Tommaso d'Aquino, secondo Aristotele, secondo Platone, secondo Kant? Allora qui purtroppo bisogna fare filosofia in prima persona, non si può usare il pappagallo. Cioè uno mette là e dice, ma ha detto così, ha detto colà. E purtroppo fare filosofia vuol dire anche sbagliare, dire delle cose che non hanno senso, dover recuperare le proprie parole e quindi ci vuole un po' di tolleranza. Allora faremo un po' di filosofia e la tolleranza sarà esercitata da tutti voi nei confronti di qualunque cosa che vi sembri non particolarmente corretta. Il tema è complicato, vi dicevo, e lo vorrei semplificare con cinque linee di introduzione. Questa sarà la prima parte. Vi farò vedere delle cose che voi già conoscete, io so che lo sapete e quindi è soltanto una questione di essere tutti quanti sulla stessa pagina, così direbbe in inglese. Quindi una sorta di riassunto. Come siamo arrivati a questa rivoluzione digitale? La seconda parte poi, entrando un po' nel merito, sarà ma quali problemi ci genera? Quali concetti ci ha trasformato questa rivoluzione digitale? E qui tratteremo di cose semplici. Il tempo, lo spazio e la nostra identità. Come sono stati modificati alla luce della rivoluzione digitale? Dopo di questo, se c'è tempo, nella terza parte, ma mi verrà segnalato se io ho parlato già troppo, un caso specifico. E per capirlo, nel contesto della salute e della medicina, introdurremo un concetto che è questo del transdiegetico, che sembra una parola difficile, ma in realtà è un'idea già vecchia. Questa sì che la ritroviamo in Aristotele. Quindi tre parti, il quadro, le trasformazioni e un caso applicato. Il quadro. Le frecce che vi voglio far vedere, non dovete essere in grado di leggere quello che c'è scritto, è semplicemente un'indicazione di massima. Questo è quello che è successo in termini di potenza di calcolo. Questo lo sappiamo, sono cose che si leggono su Wikipedia, non bisogna essere uno scienziato. Sempre, sempre più potente. Vedete che comincia un po' a deflettere, perché purtroppo anche la fisica interviene e a un certo punto le cose non si possono fare più piccole di quello che già sono. Se si va sotto l'atomo cominciano a fondersi, semplicemente. Ma, grosso modo, i nostri computer da sempre sono più potenti. anni 70, il futuro. L'altra cosa che è cresciuta è quanta gente è online. Tanta, tantissimo. E, come vedete, dal 2010, di nuovo al 2020, in alto sono le sottoscrizioni mobile e arrivano oltre gli 8 miliardi. Voi lo sapete che siamo soltanto 7 su questo paese, quindi vuol dire che molti di noi ne hanno almeno due. Il che significa che gran parte della popolazione è o online o sta per esserlo. Poi, non è soltanto una questione di calcolo e di gente online. È anche una questione di cose che si parlano tra loro. Un tempo era la stampante col computer. Poi è stato il mio diario sul mio telefono con il computer che parla anche con la stampante. Poi è diventato il fatto che la stampante parla anche con la casa che manda direttamente la lettera dicendo guardi che le cartucce sono scariche. Insomma, pian pianino abbiamo collegato molte cose. Oggi produciamo 13 trilioni di transistor al secondo, che significa che quando ho finito questa frase ce ne sono altri 13 trilioni lì pronti. Dove vanno a finire tutti questi trilioni? Vanno a finire nelle cose, nella cosiddetta internet delle cose, the internet of things. Questa sorta di ambiente sempre più intelligente che ci circonda. Anche questo in grande crescita. In tale crescita che tra il 2003 e il 2010 abbiamo passato la soglia di cose più connesse tra di loro di persone in giro per il mondo. Il che significa che grosso modo intorno al 2020, e crociando le dita saremo tutti lì per vederlo, ci saranno molte più cose connesse tra di loro, 50 miliardi, che esseri umani, circa 7.5, e avremo un grosso modo 7 attrizi, 7 cose connesse tra di loro per ciascuno di noi. Che vuol dire che le persone in questa stanza ne avranno 30, 40, perché questo include anche persone che non hanno mai fatto una telefonata in vita loro, in qualche zona dell'Africa, dell'Est Asia, eccetera. Il che significa che se voi venite da Marte e studiate la comunicazione sul mondo, e la studiate da un punto di vista quantitativo, la comunicazione tra gli esseri umani comincia a diventare un effetto poco interessante. In realtà tutta la comunicazione, l'esercizio dello scambiarsi dati avviene da macchina a macchina, la cosiddetta machine to machine communication. Stiamo diventando un po' inutili. Ho tutto questo che ha generato una grande massa di dati. Purtroppo tutti questi dati hanno diversi problemi, vi farò vedere tra un attimo. Qui una curva molto semplice, dal 2013 al 2020 siamo passati da 4.4 a 44 zbyte, che non ha importanza sapere quanti sono, ma vuol dire che sono tanti. Ed essendo tanti ed essendo decuplicati, è chiaro che i numeri sono un po' troppo tondi per non essere sospetti, 4.4, 44. Questo non l'hanno fatto in Italia, perché ci sarebbero anche i 4.44 gatti lì. Ma il fatto è che anche se Cisco ha sbagliato di gran lunga, sono numeri pur sempre stravolgenti. Ora, questo vuol dire che il 90% dei dati sono stati prodotti negli scorsi due anni. Grosso modo tutti i dati che noi abbiamo, li abbiamo generati noi, la generazione che vive oggi su questo pianeta. Questo genera molte difficoltà, ma soprattutto un senso di tsunami che arriva. Allora, quando ci sentiamo un po' troppo soverchiati da questa massa di dati, è giusto esserlo. Sarebbe strano non esserlo. Ora, i dati hanno alcuni limiti, ma non chiari. I limiti non sono di tipo fisico, non sono di tipo intelligenza e non sono di tipo di memoria. Noi costruiamo sempre più memoria per metterci i dati sopra, siamo abbastanza intelligenti da generare sempre più dati e la fisica ci sta dando una mano. Questi sono i limiti del cosiddetto big data, cioè dei dati che stanno crescendo sempre di più. Arrivano sicuramente con un sacco di problemi. Ci sono problemi di acquisizione di storage, di usabilità, di sicurezza, di accessibilità, di analytics, di legge etica e, alla fine, di costi. Questo per chiunque di voi sia in un settore industriale suona molto familiare. Soprattutto questo, i dollari, gli euro, i pounds, speriamo di restare in Europa, che stanno sempre lì alla fine a pagare il conto di tutte quelle altre cose sopra. Quindi quando vi dicono, ah i dati, che bello, una risorsa gratuita, lei non è competente, esca dalla stanza perché non ha idea di cosa sta parlando. I dati costano tantissimo. Bene, questo è il mondo. Allora qual era la freccia che sta scendendo giù? Le quattro frecce, vi ricordate? Una prova giù ed è il costo. Tutto questo costa sempre di meno. Questo lo sappiamo perché quello che paghiamo oggi è nulla rispetto a quello che avremmo pagato tempo addietro. Questo è quello che sarebbe costato in termini che noi non siamo in grado di leggere. Lo scherzo lì è sempre che soltanto i generali americani sanno leggere quei numeri perché hanno quei budget. noi a casa no. Ecco, nonostante tutti quegli zero, sono tutti questi zero, sarebbe costato l'equivalente computazionale di un iPad 2 che è già archeologia. Cioè voi oggi avete un iPad 2 da qualche parte in soffitta, buttato lì così, che sarebbe costato l'equivalente del GDP del Kuwait, grosso modo, se l'avessimo comprato intorno agli anni 40. Questo è quello che è avvenuto ed è perché tutte le altre forze si sono così ingigantite. Bene, questo è un po' il quadro e lo so che voi lo sapete e ci siamo messi semplicemente sullo stesso angolo di prospettiva. Che è successo con tutto questo? Beh, anzitutto c'è cambiato un po' il senso della storia, non nel senso del tempo, quello della fisica, ma nel senso di temporalità, come noi viviamo il tempo. Un tempo noi parlavamo di preistoria e storia. la preistoria era quell'aspetto della società umana che precede l'invenzione della scrittura. Allora se voi trovate, come è stato trovato, qualche villaggio nella foresta amazonica che non ha ancora la capacità di scrivere oggi e quindi avere un registro di cose che possano essere poi utilizzate in futuro, ecco quel villaggio vive preistoricamente. Quindi preistoria in realtà non è altro se non un avverbio, è come si vive. Noi siamo usciti dalla preistoria circa 6.000 anni fa. Siamo usciti qui e ne siamo usciti anche in Cina, quando abbiamo inventato la scrittura. A quel punto siamo entrati in quello che gli storici chiamano la storia. La storia nel senso di history, non di story. Non di narrativa, ma di fatti che possono essere registrati per consulzione, consumo, futuro. E questo è quando la società e il benessere della società e dell'individuo cominciano ad andare di pari passo, un po' a braccetto con le cosiddette ICT, le Information and Communication Technologies. Cioè le tecnologie dell'informazione e della comunicazione grazie alle quali si può creare uno Stato. Non c'è Stato senza legge, ma la legge non scritta non è una cosa seria. E allora va cesellata da qualche parte, va stampata da qualche parte. Allora non c'è Egitto, non c'è Atene, non c'è chiesa, non c'è religione del testo senza il testo. Capite bene che da 6.000 anni in qua noi abbiamo fatto dei passi importanti nella storia. La storia però crea una correlazione tra ICT e sviluppo della stessa storia. Perché una parola nuova? Perché nella iperstoria noi siamo diventati ancora più storici. In che senso? Nel senso che questa correlazione è diventata una dipendenza. La dipendenza che noi abbiamo in società come quella, ad esempio, italiana, britannica, molta parte dell'Europa, gli Stati Uniti e così via, non è semplicemente di andare a braccetto con la tecnologia. Oggi la tecnologia è la linfa che fa funzionare con la società. Il che vuol dire che il giro di vite è stato già attuato. Noi siamo ancora più storici di quanto non lo fossimo in passato, in questo quadro. Ora questo può sembrare una cosa un po' esagerata, cioè una cosa un po' da filosofo. E allora questo aiuta a subito portare la mente al pragmatico. Una società come la nostra, qui è una citazione della Bibbia, chi di digitale ferisce, di digitale perisce. Cioè chi vive basato sul digitale poi può essere attaccato in versione digitale. Noi possiamo avere cyberattacks oggi in Italia perché l'Italia è una società iperstorica. Non possiamo averli in Afghanistan perché l'Afghanistan non è una società iperstorica. Cioè è come se noi fossimo seduti su il digitale e se qualcuno ci toglie la sedia arriviamo a terra. Questo è il senso di dipendenza. Ora in questo passaggio che sta avvenendo in questa generazione, e vi ricordo che la rivoluzione agricola ha impiegato millenni per avere un effetto. Quella industriale ha avuto bisogno di secoli, quella digitale ha avuto bisogno di decenni. Il fatto che noi si sia accelerata questa trasformazione così radicale, compressa nel giro di una generazione, ci giustifica nel sentirci un po' confusi. Non capita a tutti i millenni di attraversare una rivoluzione così radicale. Ecco, in questo contesto alcuni cominciano a parlare nel passaggio dalla storia alla iperstoria di cultura cyber, di post-umanismo, di singularity. Se non ne avete sentito parlare, congratulazioni vuol dire che avete delle buone letture. Se ne avete sentito parlare, smettete, potete ancora smettere, fa male alla salute, perché queste sono sciocchezze. Ma sono sciocchezze però indicative. Cioè, sono quelle sciocchezze che fanno capire che c'è qualcosa che prude. Allora, questo è un grattarsi, e il grattarsi non è bello, ma quel qualcosa pruda c'è. Allora, in realtà, quello che noi dovremmo fare, quello che stiamo facendo, a Oxfo, con molti altri colleghi, in questi giorni a Ferrara, con l'Associazione Internazionale per la Filosofia e l'Informatica, sviluppare una filosofia della natura che è diversa, perché non è più una filosofia della natura dell'analogico, ma del digitale, una antropologia filosofica che tenga conto della nostra corrente, attuale situazione, e una filosofia politica che sia diversa da quella che abbiamo vissuto fino adesso. Tutti i temi su quali magari ci vedremo un altro giorno, di cui non tratteremo oggi, ma cominciate a capire che c'è molto lavoro da fare. In questo contesto, cosa succede allo spazio? Se la temporalità diventa iperstorica, e abbiamo visto in che senso abbastanza tranquillo, quindi non è che bisogna fare grandi speculazioni, e lo spazio, che succede allo spazio? Lo spazio si è trasformato in una sorta di infosfera, da biosfera. Ma questa biosfera come funziona? Ecco qui, poi vi ricorderò tra un attimo anche alcune idee relative all'intelligenza artificiale, ma quello che noi abbiamo fatto per decenni, in realtà, a voler essere proprio storici per millenni, è che abbiamo avvolto il mondo, e lo stiamo avvolgendo, e lo stiamo sempre più avvolgendo, in una sorta di scatola che lo rende sempre più cordiale, gentile, accessibile, in inglese si direbbe friendly, verso le tecnologie che noi utilizziamo. L'idea è semplice, la enuncio adesso, ci torneremo nei prossimi cinque minuti in maniera un po' anche noiosa. Invece di costruire macchine che sanno trattare il mondo, stiamo modificando il mondo affinché sia trattabile dalle macchine che abbiamo. idea semplice, no? Non sono io che vado verso di là, ma è il di là che va verso di me. In che modo? Questo enveloping, in realtà è una terminologia che viene dall'ingegneria meccanica, i signori della Fiat la conoscono benissimo, la envelope, ovvero la busta, è lo spazio tridimensionale all'interno del quale un robot di tipo meccanico industriale agisce in maniera efficace. Ora, voi immaginate, quando costruite un robot per l'industria meccanica, scadenate una macchina per la città dicendo trovami un attrezzo, dà la vernice alla prima macchina che trovi. Oppure costruiamo un'architettura intorno alle capacità molto elementari e molto semplici della macchina in questione e quindi le rendiamo efficaci. Ovviamente è la seconda cosa. Allora, quello che è successo in realtà è che noi sempre più, adesso spero che poi chi ci ascolterà sul video capirà l'analogia, noi sempre più stiamo vivendo e vivremo sempre più in una lavastoviglie. In che senso? Immaginate, la lavastoviglie è quello spazio, quel cubo che noi costruiamo intorno alle elementari, banali, stupide capacità del robottino che ci sta dentro. Allora il mondo sta diventando questa grande lavastoviglie che si rende sempre più amichevole nei confronti delle tecnologie che purtroppo restano stupide, restano incapaci, non sono in realtà molto più evoluti di quanto non fosse il ferro da stilo di nonna, è che il mondo che è diventato sterro da stilo friendly nei confronti dell'oggetto. Vi racconto un po' meglio questa cosa perché potrebbe non essere del tutto digeribile all'inizio. Allora, questo è il mondo del robot che vi ho descritto. Questa è fantascienza, cioè un robot che fa i piatti esattamente come li faccio io. E questo on the record, cioè io faccio i piatti a casa, eh? Io. Questa è stata una grande vittoria in famiglia quando finalmente ho conquistato la lavastoviglie. E mia moglie dice che li faccio ancora meglio io. Sono tutti i bicchieri. Oh, l'altro invece è quello che noi stiamo costruendo. Allora che cos'è questo robot che mette i piatti nella lavastoviglie è semplicemente una trasformazione di tutta la cucina in uno spazio che adesso è diventato robot friendly, cioè amichevole nei confronti del robot, affinché tutta la cucina diventi uno spazio all'interno del quale c'è un altro spazio che è poi la lavastoviglie. Dice, ma così finiamo male? Forse, ma forse no. Questo era il mondo come lo conoscevamo. La differenza tra questo e questo è che questo non è scritto per i nostri occhi. Dice la stessa cosa, dice Wikipedia. Ma non è scritto per noi. Allora, quando tanto, tanto tempo fa siete andati al supermercato, avete comprato una scatola di fagioli e avete visto quel codice a barre, vi sareste dovute e dovuti rendere conto che la rivoluzione era in atto, perché quel codice a barre non era per noi, era per una macchina. Era stampato lì sopra affinché una macchina potesse leggerlo. Era diventata all'improvviso una scatola di fagioli che si autodescrive dicendo, io sono una scatola di fagioli per te, macchina. Lui, Luciano, lo lasciamo fuori, non c'entra niente. Basta che tu leggi me come autopresentante, sì, a te, robot, come scatola di fagioli. Allora, quando noi studiamo la robotica dicendo, ma come fanno i robot, un giorno di questi, a riconoscere scatole di fagioli? Domanda sbagliata. Saranno le scatole di fagioli a presentarsi come scatole di fagioli al robot che non sarà in grado di riconoscere la scatola di fagioli. Ci siamo intesi. Pensate a quando trasformeremo le città in modo tali che le automobili senza guidatore siano in grado di andare per le strade. Avremmo trasformato la città per le macchine, non viceversa. Questo è lo spazio della cucina che potremmo avere davanti agli occhi. Come vedete, questo è un famoso chef, questa è una famosa invenzione, una cosa recente. Questo robot che fa anche cose mi dicono molto buone, riesce a cucinare cose molto buone. Ecco, in realtà, questo robot, come vedete, lavora in uno spazio chiuso. L'essere umano è fuori. Ed è fuori perché quello spazio è fatto per il robot, non è fatto per l'essere umano. Allora, noi tanto tempo fa lavoravamo così. Questa era nonna quando entrava nel computer. Il computer stava intorno a nonna e lei entrava dentro. Poi la figlia in realtà ha visto il computer di fronte ai suoi occhi. La nipote è rientrata nel computer, soltanto che non lo sa. O meglio, lo sa perché è venuta qui oggi, stasera. Ma se non fosse venuta questa sera, non l'avrebbe esaudo. Cioè è di nuovo rientrata nella lavastoviglie. Cioè in uno spazio che viene costruito intorno a esseri umani e non affinché entrambi possano coordinare, lavorare. Allora quando non c'è campo, quando la stampante non si collega wireless con il... tutto quello lì, vi ricordate, è la lavastoviglie. Allora, in questo noi viviamo in un mondo che è, e finalmente arriviamo al tema, on-life, in cui chiedersi se questo sia online o offline e, come mi dicevano i miei studenti qualche tempo fa, professore, questo è veramente anni 90, proprio. Perché diciamo, che senso ha oggi chiedersi se si è connessi oppure no, ad esempio guidando un'automobile mentre si seguono le indicazioni del GPS? Non ha senso. Oppure mentre magari si sta scaricando della musica e sta andando in bicicletta per una passeggiata. In realtà è la domanda sbagliata. La domanda giusta è cosa succede quando queste due entità, il dolce e il salato del fiume e del mare, ovvero il digitale e l'analogico si incontrano in questo spazio che è on-life. Lì sta la vita nostra e del futuro e lì dovremo capire un po' meglio quello che stiamo facendo. Allora, in questo contesto torna utile una gloria molto locale. Galileo. Galileo in inglese, perdonate, ma questo è troppo famoso per non ricordarlo. Galileo a un certo punto dice, ma sì, la natura. La natura è un bellissimo libro. È un bellissimo libro scritto in simboli matematici e questo a noi fa comodo per capire di che mondo stiamo parlando. Vi ricordate? Infosfera, lo spazio. Perché se il mondo è un libro scritto in simboli matematici, allora quando noi facciamo informatica, quando ci sono le cosiddette ICTs, quando c'è l'intelligenza artificiale, machine learning e tutte queste cose qua, noi che cosa stiamo facendo? In realtà non è che stiamo descrivendo il mondo, non stiamo neanche dicendo come il mondo debba andare, cioè prescrivendolo. Noi in realtà stiamo aggiungendo pagine a questo bel libro che si chiama il libro della natura, se ci pensate un attimo. Questo è tutto materiale di tipo simbolico, computazionale e altra matematica che noi stiamo aggiungendo a un mondo che già di per sé è matematico. Allora abbiamo aggiunto sostanzialmente questo grande capitolo del non-life e ci stiamo piazzando noi, esseri umani, come vita in questo capitolo. E leggiamo tutto il resto della narrativa a partire da questo capitolo. Non è che il mondo non è più come era una volta, è come lo vediamo che è cambiato. Questo lo diceva già Aristotele nei tempi della tragedia. Non è che cambiano i fatti, è come li vedi che cambiano. Hai pur sempre ucciso un uomo e sposato una donna e che all'improvviso ti rendi conto che quello che hai ucciso è tuo padre e quello che hai sposato è tua madre. I fatti restano gli stessi, ma l'interpretazione è molto più pesante. Ecco, la lettura del mondo alla luce dell'infosfera, alla luce dell'ipestoria, alla luce del capitolo on-life, che adesso abbiamo costruito, è quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, qual è questa quarta rivoluzione? La quarta rivoluzione, di cui ho parlato forse un po' troppo spesso negli ultimi tempi, è stata fatta da questi quattro signori. E mi perdonerete la battuta, purtroppo l'ultimo di questi viene da Cambridge. Ma anche noi di Oxford abbiamo un'anima, abbiamo un cuore. Dare a Cambridge quello che è di Cambridge. Vabbè. Allora, il Signore qui su, altra gloria abbastanza locale, ha studiato a Ferrara, a Copernico, a un certo punto, facendo scienza, ci trasforma alla nostra antropologia, dice non siamo più al centro dell'universo, mi dispiace signori, dovete ripensare il vostro eccezionalismo, perché saremo eccezionali, ma non lo siamo perché siamo al centro dell'universo. Allora questa eccezionalità nostra da dove viene? Beh, noi ci siamo ritrincerati, siamo passati alla centralità non nell'universo, ma nel mondo biologico, nel mondo della natura. Allora arriva Darwin e dice, no, mi dispiace, anche qui, no, spostarsi, perché la centralità nel mondo della natura non sussiste. In realtà, c'è tanta di quella somiglianza, continuità, eccetera, seconda rivoluzione. La terza rivoluzione è arrivata con Freud, quando Freud ci dice, guardate che anche l'idea di ritrincerarsi in una terza centralità, che è quella della mente. Un po' l'idea, per chi ha qualche memoria un po' così liceale, di Cartesio, il cogito, ergo sumo, tutta quella storia lì, no? Dice, ma lì che cos'è quel cogito? Quello è semplicemente, alla luce di queste, non cronologica ovviamente, di tutte queste storie, è mettersi al centro dell'universo perché si è la coscienza pensante, pascale, tutto il resto. Allora, io, che me ne importa di non essere al centro dell'universo o al centro del mondo biologico? Sono al centro di me stesso, so esattamente quello che c'è, non c'è nella mia mente, scelgo, sono un essere razionale, eccetera. Tutto sfalso, tutto sbagliato, tutto da rifare, secondo Freud, terza rivoluzione. Ed eravamo arrivati lì. C'era rimasta però una piccola, implicita tentazione, che era quella di dire, beh, però noi sempre eccezionali siamo, qualcosa di speciale resta. E allora noi, a un certo punto, abbiamo cominciato a pensare che eravamo, sì, va bene, su questo pianeta, da tutte le parti, c'è la biologia, tutto il resto, non si sa manco perché ho preso le sciste che ho fatto, forse perché mamma un giorno mi ha dato un ceffone, ecco perché sono diventato un filosofo, chissà. Però, a scacchi, come gioco io a scacchi? Nessun altro essere umano, no, che non sia appunto qualcun altro della mia specie, nessun altro animale può giocare a scacchi come me. Allora noi siamo diventati quelli che giocavano a scacchi, quelli che parcheggiavano, quelli che trovavano il miglior prodotto online, quelli che erano in grado di agire razionalmente, meglio di comunque altro ente lì fuori, perché gli unici enti con cui ci potremmo comparare erano il cane e il gatto. E allora la quarta rivoluzione è proprio l'idea che la nostra centralità nell'infosfera che vi ho introdotto prima, cioè in questo spazio abbastanza speciale in cui noi viviamo di informazione e gestiamo informazione, non siamo solo noi. Purtroppo molte volte abbiamo a che fare con entità che sono abbastanza smart, dire intelligenti è un po' troppo, ma sanno fare il lavoro a volte meglio di noi, sanno far atterrare quell'aereo meglio di noi, parcheggiano meglio di noi, sul parcheggio lasciamo stare, e giocano a scacchi meglio di noi, giocano a go meglio di noi. Adesso scrivono anche pezzi per il cinema, informazione recente. Ricostruiscono il suono di film muti perché hanno imparato che quel gesto nel mondo reale suona così, così vi dice come il film muto dovrebbe suonare perché così suona il mondo. Insomma, sono abbastanza capaci questi esseri artificiali e quindi la nostra centralità certamente non è più giustificata. Siamo stati scalzati da questa quarta centralità. Allora a questo punto noi ci ritroviamo in questo mondo in cui le automobili sono in realtà dei computer sulle ruote, in cui gli oggetti sono diventati incantati, questo è un progetto di un collega all'MIT dove l'ombrello, che oggi farebbe abbastanza comodo, oddio, a OXO sarebbe del tutto inutile, perché lui diceva guarda Luciano è comodissimo, questo qui diventa blu quando piove, eh appunto lascialo proprio fisso così, però a lui che sta all'MIT gli cambia colore, beato lui. Oppure medicinali che ci dicono guardate che lei non ha preso la medicina, come fa a saperlo dottore? È perché questa capsula me lo ha detto che lei ieri non ha preso la pasticca. Questi sono abiti, tra l'altro in Spagna, dove le etichette riportano i likes su Facebook, in modo che così si sa questa continuità tra l'online e l'offline. Andate a dirla a uno studente, ma siamo online o siamo offline quando vado a prendere quella giacchetta? Domanda fuori senso. Oppure il nostro classico termostato anche lì di intelligenza, ne ho due di Nest. Insomma c'è lavoro da fare, perché tanti intelligenti non sono, ma insomma un po' meno scemo di quello che usavo qualche tempo fa. Oggi farsi la barba è un lavoro da ingegnere, cioè non è banale, cioè dover gestire tutti questi dati in contemporanea, cioè altro che la metta. Ecco, questo è il mondo in cui noi viviamo. Le mucche sappiamo dove stanno e sappiamo anche dove sta Pippo e Mario, perché gli abbiamo messo la stessa cosa intorno ai piedi. Insomma, in questo mondo, e adesso vi faccio vedere una cosa velocissimamente, dove l'online e l'offline si mescolano, dove non siamo più al centro di niente, alcune cose sono cambiate radicalmente e bisogna fare un po' di filosofia, cioè capire quali sono i problemi aperti che dobbiamo risolvere con un design delle soluzioni giuste. O quello che vi ho passato è appena, no, in velocità, come io definisco il concetto di filosofia. La filosofia come disegno concettuale, che in inglese viene meglio, conceptual design, cioè il disegno di soluzioni a problemi aperti. I problemi sono aperti quando tutta l'informazione del mondo e tutta la matematica del mondo non ve lo fa risolvere. Dobbiamo fare una festa sabato? Ditemelo voi, è una questione filosofica. Allora, in questo contesto, possiamo togliere l'audio. Questo è il Lego ormai uscito da qualche anno, quindi anche sono cose vecchie. Con questo Lego voi potete costruire la vostra casetta, la costruite su un tablet. Ovviamente questo qui è un Lego speciale, ma la cosa interessante è che poi, clic clic clic, mettete quella casetta online e giocate online sulla casetta che avete costruito sul tavolino. La cosa importante, non è tanto questa, è quanto il passo successivo che la Lego non ha ancora fatto, ma che io spero faccia, magari ascoltando quello che stiamo dicendo oggi. Ma se il Lego io lo costruisco sul tavolino, faccio un click e lo metto online, poi che ci vuole a tornare indietro con una stampante 3D? Non è nulla, banale. Perché i mattoncini devo andare a comprare? Ma li posso stampare a casa. Allora capite che in tutto questo che cos'è che resta? Non la sostanza, ma la forma, per metterla un po' in versione aristotelica. Cioè non tanto il cosa, la roba, perché tanto made in China oppure no, non fa nessuna differenza. È la funzione, le relazioni, la forma che fanno la differenza. È il design. Allora in questo contesto, tra l'altro potete costruire, questa è una stampante 3D grandicella. Questo è come fanno le abitazioni in alcuni posti in Cina, con una stampa 3D, soltanto che invece della plastica c'è il cemento. Allora in questo contesto è chiaro che abbiamo cambiato la nostra esperienza, il mondo sta cambiando radicalmente e velocemente sotto i nostri occhi. Che genere di esperienza abbiamo a che fare? Ecco qui, dov'è la nostra assistente al cronometro? Siccome stiamo andando con i tempi, qui il punto diventa introdurre l'idea di quel transdiegetico che vi dicevo prima. Bisognerà fare un po' di lavoro, ci vorrà un po' di pazienza, sono termini abbastanza semplici e soprattutto ci sono quattro filmati quasi classici che aiuteranno nel percorso. Allora partiamo da un normale film. Un normale film ha, e questo lo si studia al primo anno di un'università, ha due ambiti completamente diversi. Uno, che sono i personaggi e chiameremo tutta l'informazione disponibile ai personaggi l'informazione diegetica dal greco, o questi sono termini tra l'altro che vengono da Aristotele. Poi fuori c'è l'informazione non diegetica, l'informazione che abbiamo soltanto noi. Ora questa distinzione è abbastanza semplice, si pensi alla colonna sonora di un film, dobbiamo cominciare a giocare con questo dentro e questo fuori. Informazione soltanto per i personaggi, informazione per noi ma non per i personaggi, perché ci servirà tra cinque minuti per capire come la nostra esperienza in questo on life sta cambiando. Questo è uno dei grandi classici dell'informazione diegetica. E qui forse un pochino di volume. spiegare Casablanca sarebbe imbarazzante e la cosa importante è chi può ascoltare quel pianoforte. Chiunque passi per il bar. La sentiamo noi ma la sente anche lei. Ora guardate questa immagine. I nostri due sono all'aeroporto. Per chi non ha visto il film non dico altro ma non finisce bene. Allora i nostri due stanno all'aeroporto, si stanno per salutare. Poi vi ricordate quando siete scesi a Bologna dove non vi fanno camminare dall'aereo lì perché sono cento metri per prendere l'autobus come ho fatto io stamattina? Ottimo. Rumore assordante. E soprattutto non c'è nessuno che suona il pianoforte. Ecco. Invece è quello che è successo. Non si sente nulla dell'aereo dietro che è rombante. In compenso c'è una musichetta di sottofondo molto simpatica. Allora la musichetta di sottofondo la sentiamo noi, non loro. Dice ci voleva il professore filosofo da Oxford per dirmi questa scemenza. Calma. Intanto un passetto alla volta. Quello che sta dentro è quello che sta fuori. La filosofia fa sempre questi scherzi. Ti parte piano piano e poi ti ritrovi che non esiste il mondo, che sei un angelo, che è una farfalla. Allora quello che è dentro è quello che sta fuori. Benissimo. Allora adesso appena noi stabiliamo che c'è un dentro e c'è un fuori che fa l'artista. Subito si imbizzarrisce e dice ah io adesso rompo lo schema. Quello che sta dentro lo metto fuori, quello che sta fuori lo metto dentro, faccio avanti e indietro. E in effetti abbiamo fatto così per qualche tempo. E adesso vi faccio vedere come. Allora per attraversare questa soglia di quello che non è diegetico usato diegeticamente, cioè quello che sta fuori, lo uso buttandolo dentro. Oppure quello che sta dentro lo uso buttandolo fuori. Due esempi, altri due qui classici. Allora il primo forse ci vuole un po' di volume, soprattutto per chi l'ha visto la prima volta da ragazzo, 16 anni. merita. la sentono anche loro. La prima volta che voi avete visto, la prima volta che voi avete questo passaggio, c'è stato questa trasformazione geniale per la quale la musica di Casablanca che era solo per noi, loro non la sentivano all'aeroporto con i motori rombanti. Qui i motori li sentiamo, noi e loro. Qui le valchiri le sentiamo noi e loro. Allora qual è la cosa fondamentale qui? E poi torniamo al nostro argomento. Che noi da esterni, solo noi sentiamo questa musica. All'improvviso ci troviamo sull'elicottero, perché siamo parte, come loro, dello stesso evento. Questo è l'utilizzo di quello che fino al giorno prima era non diegetico. Colonna sonora, la senti solo tu a diegetico. La sentono anche loro. Siamo tutti sulla stessa barca, o meglio, sullo stesso elicottero. Primo passaggio. E come si fa a fare un'altra cosa? Come si fa se da fuori lo buttiamo dentro, da dentro a buttarlo fuori? Questo lo sapeva fare anche Shakespeare. Se non l'avete vista questa serie, è bellissima. Passiamo il volume. Anzi qua il volume lo diciamo proprio toglie, tanto basta vedere le immagini. Questa serie, non ve la rovino, ma se non l'avete vista vale la pena spendere o trovare qualcuno che ce l'ha, diciamo. La cosa fondamentale è che a un certo punto in questo evento saluta noi, che siamo fuori. Questa è da dentro l'informazione diegetica che nessun altro vede, ed è fatta per noi. E quante volte per chi di voi ha visto la serie c'è questo dialogo nei confronti dell'audience. Allora si possono fare tutte e due le cose. Allora a questo punto noi abbiamo coperto tutte e quattro le possibilità. Dentro, fuori, fuori dentro, dentro fuori. Si può cominciare a giocare. Questo è l'ABC della narrativa che noi dobbiamo dominare per capire il trans diegetico. E' quello che quindi le tecnologie digitali stanno facendo a noi. O quando dico lo stanno facendo a noi, faccio riferimento a quando la mattina saliamo sulla bilancia, dice, la connessione arriverà. Allora, l'interattività che cosa fa? Lo immaginate dentro, fuori, fuori, dentro. E se sono interattivo, se quello che sta dentro io lo posso modificare, allora modifico anche fuori. E se il fuori lo modifico, beh, allora modifico anche il dentro. Ma l'interattività, vi ricordate, quello che stava dentro stava dentro, fuori fuori, poi abbiamo cominciato a mettere il fuori e il dentro fuori. Ma se poi io sono interattivo con tutti e due, allora vuol dire che modificando uno modifico l'altro e viceversa. E che cos'è la differenza tra la rivoluzione di Gutenberg, il libro, e la rivoluzione di Alan Turing, il computer? Tempi addietro, grandi intellettuali anche in Italia, hanno detto, no, ma è la stessa cosa, l'involuzione dell'informazione. No, non è la stessa cosa, perché il libro non parla, il libro non è interattivo, o meglio, non lo era quando era stampato sulla carta. La stampa, come l'alfabeto, è una rivoluzione relativa alla registrazione e la trasmissione dei dati. Li metti da una parte e li mandi da un'altra. Il computer fa una terza cosa, li modifica autonomamente. È quindi fatto di manipolazione dei dati, non è soltanto registrazione e comunicazione, è soprattutto manipolazione, manipolazione interattiva. Allora a questo punto il dentro fuori fuori dentro diventa molto più poroso e permeabile. alle differenze. E per illustrarvi che cosa questo significhi ci vuole qualcosa di interattivo. Allora, che cos'è che è interattivo per antonomasia nel contesto del digitale? Il gioco. E allora un paio di classici anche qua. E anche qui il volume può essere basso, tanto dovete soltanto vedere le immagini. Allora abbiamo visto questo transdiegetico come quello che va dentro e da fuori da fuori a dentro. E il primo è un classico Mass Effect 3 del 2012. Queste sono tutte cose antiche, come vedete, come Casablanca, sono cose che noi ormai abbiamo nella nostra cultura. Allora, in questo caso vedete che io sto giocando, ma mentre gioco ho una doppia informazione. Ho informazioni su quello che avviene diegeticamente nel gioco. Ma poi a un certo punto comincia a comparire informazione che vedo soltanto io. La vedo soltanto io che sto giocando, non la gente all'interno del gioco. Quindi in questo caso abbiamo questa interazione con il gioco che trasforma l'informazione, informazione che io vedo, ma che cambia anche lo stato del giocatore. Capite che allora di questi tre elementi, dentro, fuori e interazione, qui la ricetta si fa un po' complessa. E non è più quella cosa un po' banale, cioè ci voleva il professore di Ox. Si può fare anche il contrario. Qui la musichetta forse ci sta bene perché è un po' nostalgica, Phil Collins, insomma, 50enne gli torna comodo. Bene. Allora, in questo caso, a parte farvi notare come la grafica dei giochi computerizzati da molti anni ha fatto salti in avanti, questo è quello che fanno i ragazzi quando chiede la porta. Giocando qui, vedete questi colori? E soprattutto guardate la schiena di lui a un certo punto nel gioco, in questa parte, e eccola qui. Questa striscetta gialla, geniale. Questo è il coppola nella computer games. Perché quella striscetta gialla la vediamo noi e la vede lei che lo sta salvando. E quanta vita gli resta a lui? In vecchie versioni quella striscetta sarebbe stata una schermata, una cosa tipo guarda che c'è ancora dieci punti. Lei nel gioco non l'avrebbe vista. Oggi lei la la vede benissimo. La vede lei, la vedo io. E quindi effetto elicottero. Stiamo tutti sulla stessa barca. Immersione, partecipazione, interazione. Questa striscetta gialla cambia per come lei agisce, ma come agisco anch'io. Quindi dentro fuori, interazione, ci siamo. Ora questo basta trasportarlo in un contesto di ICT e il gioco è fatto. Abbiamo fatto la torta, adesso basta soltanto servirla nel contesto di come cambia l'esperienza on life, quando noi siamo non chi agisce su i personaggi, ma siamo noi personaggi, come direbbe Shakespeare, di questo teatro che è la vita. Allora la bilancia che cosa fa? La bilancia mi dice che c'è un mondo fuori che è il mio peso. Quel mondo io non lo vedo fino al momento in cui non salgo sulla bilancia. Salgo sulla bilancia quel mondo entra dentro. Allora sono come quel personaggio che, stando all'interno della narrativa, ha accesso a una narrativa non diegetica attraverso l'interazione con le tecnologie digitali. Per far questo ho bisogno di interfacce. Le interfacce oggi sono quelle che gestiscono l'accessibilità o meno da dentro, la nostra vita, al di fuori. E cos'è al di fuori? Vi ricordate quei 44? No. Trilioni, zilioni, gazzilioni di roba, di dati? Lì stanno. Stanno lì, adesso. Non li vediamo. E come faccio ad avere accesso a questi attraverso le interfacce? Ma interfacce interattive, interattive diegetiche, non diegetiche. Ah, ecco il ping pong qui in questione. Allora, capite che quando si parlava, oggi non se ne parla più perché ovviamente va di moda, poi non va di moda, ma quando si parlava dei Google Glass. Ma i Google Glass cosa facevano? Avevano una visione diegetica o non diegetica della realtà? In realtà i Google Glass, io ero molto immidioso perché un mio studente che lavora per Google ne aveva un paio e non me l'ha mai fatti provare. E vedendo però lui mi diceva che li vedi sullo schermo è un po' il disegno vecchio, è come dire precopola, se ci siamo intesi. Mentre oggi noi dovremmo vedere la nostra interazione con la realtà in maniera diversa, in maniera non mass effect, ma depth spacing, cioè in modo tale che il modo in cui noi percepiamo il mondo sia tale da farci vedere il mondo così come dovrebbe essere alla luce del digitale. Non con una schermata che ci dice guarda che il nome della persona che hai appena incontrato è Maria, ma vedere Maria come Maria. Spero che la distinzione cominci a funzionare. Allora, vi dicevo un po' di concreta applicabilità in modo che arriviamo poi a, beh, ma allora io da tutta questa faccenda che ci tiro fuori? Ho capito che c'è una grande rivoluzione, c'erano tutte quelle frecce, un po' un pasticcio, però insomma, grosso modo. Poi ho capito che è cambiato tutto, è cambiato la storia, è cambiato lo spazio, è cambiato l'esperienza, c'era il trans qualche cosa, non si è capito niente, però insomma cambia tutto. E a me che mi rientra? Che me ne importa a me, cittadino, cittadina, quando torno a casa? Ecco, siccome la salute interessa un po' a tutte o a tutti, questo forse può essere un buon argomento per concludere nella parte finale. In questo caso, di nuovo vi ricordo, questo è dentro, fuori, il trans è dentro, fuori a seconda della interattività. E per arriere qualche dato alla mano. Questo è come funziona il diabete nel mondo, secondo la World Health Organization. Ci sono circa un milione e mezzo di morti all'anno per diabete. Circa il 9% degli adulti da 18 anni in su ha il diabete nel 2014. Il diabete nel 2030 sarà la settima causa di morte nel mondo. Quindi è una cosa seria, probabilmente che tocca a moltissime persone, costa molto, è una vita penosa. E abbiamo un mucchio di apps per gestire il diabete. Potete controllare adesso se vi siete annoiate. Ci sono anche attrezzetti molto comodi per controllare il diabete. Senza fare pubblicità a nessuno, tanto lo riconosciamo tutti. In questo caso, capite che avere una certa interazione tra quello che porto al polso e grandi case come l'IBM o la Medtronic, la JNG, la Johnson & Johnson, che si occupano di questo genere di problemi di salute, significa entrare in un circolo di interazioni tali che i dati medici cominciano a diventare trans-diegetici. I dati medici li controllo io, cambio dieta, cambiano i dati. Sono dati che io non ho, sono fuori dalla mia sfera. Come faccio a farli entrare nella mia sfera? Li vedo sul polso. Clicco, questo è il tuo diabete, questo è quanto hai camminato oggi, questo è il tuo livello di zucca e così via. Allora, dati fuori entrano dentro, il non-diegetico diventa diegetico, lo posso modificare io cambiando, ad esempio, le mie abitudini. Vado a piedi, non prendo la macchina. Allora, adesso qui, andando un po' velocemente, questi sono dati ulteriori relativi allo stesso fenomeno, ma quali sono quindi le questioni che ci toccano da vicino, qua ad esempio nei confronti dell'e-health? Poi ci sono questioni etiche, legali, di impatto sociale. A Bruxelles si chiamano ELSI, Ethics, Law and Social Implications. Ci sono questioni di consapevolezza ecologica, diciamo così, nel senso di quanti dati dovrei dare, quanti dati dovrei trattenere, chi sta controllando cosa, dove vanno a finire questi dati, posso donare i miei dati alla medicina una volta che sono morta o sono morto. E ci sono altre gamificazioni in corso. Oggi è sempre più difficile capire se quello che stiamo scaricando è una app per la salute o è un'app per giocarci. Tanto, grosso modo, si assomigliano un po' tutte. Allora, in questo contesto le questioni aperte, vi dicevo, sono diverse. Quello che vorrei arrivare è una conclusione relativa all'ultima parte di questo discorso. Cosa succede alla nostra identità e soprattutto alla nostra privacy? Abbiamo visto quelle cinque frecce, abbiamo visto le trasformazioni spazio, tempo ed esperienza e un esempio specifico della salute. Ma nei confronti dei miei dati personali, piccola nota storica, se voi comprate un libro di introduzione all'etica, stampato prima degli anni, diciamo, fine 80, primi 90, e guardate l'indice, non troverete la parola privacy. La privacy è diventata una questione etica che ha definito noi oggi, ma che non abbiamo ereditato né da Aristotele, né da Platone, né da Cartesio, né da Kant, né da Mill, né da nessun altro. Non perché non ci fosse in passato, ne parla anche Agostino, ma perché non interessava tanto. Grosso modo quasi tutto è già stato detto in filosofia. Il problema è quanto è stato detto. È come se uno avesse un diamante e ogni volta si modificasse la posizione di quel diamante. Quella faccia lì c'era, ma non la guardava nessuno. Oggi questa sfaccettatura che è la nostra identità personale e la nostra privacy è una sfaccettatura che sta a cuore a tutti per queste ragioni. Perché se cominciamo a lavorare in maniera interattiva con società lì che stanno ad invitarci alla condivisione dei dati, e questi dati entrano e escono, qualcuno comincia a fare cosiddetto business su questi dati e i rischi che si possa abusare di questi dati sono palesi. Allora di qui la privacy come elemento che definisce la nostra cultura oggi. In questo contesto, allora, vi ricordate quando siamo partiti? Eh, ma noi non eravamo speciali. E come si fa a giustificare la privacy in termini di protezione dei dati, in termini di dignità umana, se questa dignità umana non ha più la sua eccezionalità? Se io sono tanto importante quanto, diciamo, questa bottiglia d'acqua o quanto un cane, ma che il cane ha la sua privacy? Ma non mi sembra. Allora, o io ho la mia eccezionalità che recupero da qualche parte, oppure questa privacy è un po' traballante. Allora, quando traballa, quando voi sentite discorsi sull'altro, guardate la privacy dei dati, entriamo in una zona market, si possono vendere e comprare, eccetera. Dovete sapere che la privacy è fondata sull'identità personale e sullo statuto speciale dell'essere umano e ci vuole una teoria che ci dice perché siamo speciali. Ora, le quattro che abbiamo visto, centro dell'universo, centro del mondo biologico, centro della mente, centro dell'infosfera, non hanno funzionato. Allora ci si tratta di cominciare a pensare che forse questa centralità è proprio lei che non funziona. Magari noi siamo speciali perché non siamo al centro. Questa ribaltata così, all'ultimo minuto. Allora ci vorrebbe forse una visione un po' eccentrica della nostra eccezionalità. E che cosa vuol dire essere il momento eccentrico in questo universo che funziona tanto bene? Cioè noi, se voi guardate le statistiche, non dovremmo esserci in questo universo. Siamo veramente anomali. Allora, come specie anomala, noi assomigliamo molto più a una sorta di errore molto bello, di un sistema che non avrebbe dovuto commetterlo. Il miracolo non sta nel fatto che l'errore sia stato commesso. Il miracolo sta nel fatto che l'errore sia sopravvissuto. Cioè noi non solo non dovremmo esserci qui perché siamo diversi da tutte le altre specie animali, ma non dovremmo esserci anche e soprattutto perché siamo estremamente fragili. Basta lasciare un ragazzino in mezzo alla foresta, muore subito. Cioè non è che trova una soluzione, va, si adatta. Oppure pensate a quando non si insegna un linguaggio a un essere umano. Non lo apprende più dopo i dieci, undi, dodici anni. Purtroppo ci sono casi mostruosi come questi. Allora noi come specie molto fragili siamo questo, in inglese, beautiful glitch. Siamo un errore del sistema. Ora, per chi è più religiosamente orientato del sottoscritto, vede in questo beautiful glitch un disegno. Per chi non è così religiosamente orientato non vede il disegno. La storia è la stessa. Quindi ci possiamo mettere d'accordo sul punto di partenza. Dove si va a farare è un'altra faccenda. Allora in questo beautiful glitch, o per chi conosce Java, una non fatal exception, una eccezione non fatale, non fatale per la specie che ha commesso questa eccezione, è più facile vederci come organismi informazionali, cioè come enti o entità che vivono di informazione, scambiano informazione e crescono o stanno meglio o stanno peggio a seconda dell'informazione che ricevono e che riescono a scambiarsi. In questa visione un po' più informazionale della nostra eccezionalità, allora le nostre identità sono di tipo informazionale. Chi sono è determinato da quali informazioni mi costituiscono. E se questo sembra un po' troppo filosofico in fine serata, dice, occidenti, l'aveva detto che era noioso. Pensate all'esempio così, un po' fantascientifico. Un anno nel futuro. Grandi scoperte scientifiche e tecnologiche. Purtroppo ci sono solo due alternative. La prima alternativa è che ti dobbiamo cambiare il corpo. Te ne diamo uno non tanto buono, non siamo stati tanto bravi, te ne diamo un po' metallico, un corpo di serie B. Però la mente, tutte le informazioni, i tuoi gusti, le tue esperienze, la lingua che hai imparato, le persone che hai incontrato, le belle e le cose brutte che hai visto, tutto è compattato, proprio clonato. Purtroppo il corpo, no, quello niente. Ti diamo questa scatola di fagioli, vedi sopra. Oppure, guardi, abbiamo un bellissimo corpo, proprio eccezionale. Purtroppo non prende la clonazione. E quindi lei lascia dietro la mente, tutte le informazioni che lei ha usato, però il suo corpo sarà bellissimo. Io vorrei sapere il primo che alza la mano e dice, prendo il corpo, lascio tutto dietro, la mia mente, le mie passioni, le mie paure, le belle cose che ho visto, le brutte, la lingua che parlo, le cose in cui credo e in cui non credo, i timori, i progetti, i piani, perché finalmente ho questo bel corpo. Ovviamente no, perché siamo costituiti da quello che noi abbiamo esperito, dalle nostre proiezioni e così via, da tutta l'informazione che è quell'individuo e non un altro. Ma allora, se noi siamo le nostre informazioni, lo capite che andare a toccare una tecnologia che si chiama Information Technology è pericoloso, perché quella Information Technology è una tecnologia, come si direbbe in termini un po' più, no, fichetti, alla Foucault, egopoietica, cioè che crea io. È una tecnologia fatta apposta per modellare, cambiare, incrementare, diminuire quell'essere che è fatto di informazioni. Allora è normale che ci si debba preoccupare, ed è normale il fatto che oggi ci si preoccupi di privacy e non ieri. Ieri non c'erano le ICTs, non c'erano le tecnologie che potevano modificare la mia essenza. Quale essenza? Quella informazione che sono io. Questo dovrebbe tornare. Allora a questo punto la protezione della privacy è la protezione dell'identità personale. Oh, con questo benvenuti in Europa, perché non è così dall'altra parte dell'Atlantico. Dall'altra parte dell'Atlantico, per i nostri colleghi americani, la privacy non è protezione dell'identità personale, ma è la protezione della possibilità di avere scambi commercialmente utili con altri. Quindi nella misura in cui la mia privacy mi aiuta ad avere degli scambi interessanti con te e qualcun altro, bene, se non mi aiuta. È una visione diversa, che io reputo sbagliata, ma per altre ragioni che oggi non affronteremo. Però è molto diversa. Allora in questo caso l'identità personale è identità della mia privacy e delle miei dati. Allora un concetto di privacy zero, come viene già presentato ad esempio da Facebook, dice ragazzi sveglia, la privacy non esiste più, abbandonatela, ma si era ancora durante gli anni 90, vedi sopra sempre. Ecco no, non tanto. Perché abbandonare la privacy, la privacy a grado zero, significa fare la fine della farfallina che col bel spillone è infilzata su quella tavola. Significa essere ingessati in un profilo che non ci corrisponde più se lo vogliamo cambiare. Allora, tornando ai nostri argomenti iniziali, la zero privacy è deumanizzante. Ed è per questo che la dobbiamo proteggere ed è per questo che il lavoro che tra l'altro stiamo facendo per tutta l'Europa a Bruxelles ha la sua importanza. Cioè il lavoro sull'etica dei dati personali è qualcosa che non sta soltanto lì a proteggere i rapporti tra noi e le società che ci gestiranno in maniera più o meno interessante i dati nostri personali, ma sta a fondamento di quello che noi vogliamo vedere come progetto umano realizzarsi nel XXI secolo. Ecco, la privacy deve essere difesa come parte della dignità umana, e questo è il nostro progetto europeo. E per chiudere lascerei tre domande per introdurre le domande successive. Vi ricordo che non abbiamo visto molto, un po' di storie, insomma qualche dato, come è cambiata la storia, lo spazio e l'esperienza, questo un piccolo accenno sulla medicina, e poi per tornare in chiusura la privacy, perché tutto questo è importante per noi, per noi che viviamo in questo periodo. Ma questi sono secondo me i tre problemi che dovremmo affrontare oggi ad alto livello. Quando dico alto livello, non dico un livello staccato dalla realtà, ma un livello talmente importante che una volta che lo hai raggiunto cambi tutta la realtà. Quale infosfera vogliamo costruire? Vogliamo costruire questo bel mondo fatto a lavastoviglia, lavatrice, che funzioni per noi, o per il robottino che ci deve pulire il pavimento? Dice ma dai, ma mica è così grave? È così grave. Perché un giorno di questi noi ci troveremo ad aver applicato al mondo che stiamo costruendo regole che sono molto più favorevoli agli agenti artificiali che lo popolano, che a noi stessi. Pensateci. Lui e lei. Lei, intelligente, bravissima, però non vuole fare niente. Pigra, brighissimo. Lui, stupido, non capisce niente, però un gran lavoratore. Chi si adatta a chi? Lei e a lui. Allora lei è l'umanità e lui è il robottino. Noi siamo la specie intelligente, ma che non c'è tanta voglia di lavorare. Il robottino è l'attrezzo che è un po' troppo stupido, ma che lavora sempre. E chi si adatterà a chi, se non facciamo attenzione? Io e mia moglie abbiamo già cambiato il divano, perché rumba, che è una cosa alta così, larga così, che pulisce per terra, non passava sotto il divano precedente. Noi abbiamo un divano che è rumba friendly. Capite che pian pianino uno poi alla fine si trova, ha messo in posizione così, perché questo era più friendly per rumba. Il giorno in cui io comincio ad avere riscaldamento adattato a quello che Nest è in grado di fare, piuttosto a come vorrei avercelo io, avete capito che la trasformazione dell'infosfera è grammatica. Human project. Questo è fondamentale. La politica oggi è una politica determinata dall'economia, non da questioni sociali. Ci sono mille ragioni per spiegarlo. Una di queste è che è una politica che è basata su un progetto umano che ha cura soltanto delle condizioni necessarie per avere un progetto. Per semplificare il liberalismo democratico, un po' consumerista dei nostri giorni, è fatto così. Io non ti rompo le scatole a te e ti metto in condizione a te di avere il progetto che vuoi, purché tu non rompi le scatole al resto della società, grosso modo. Allora non è un progetto umano, è un progetto per permettere progetti. I progetti sono individualisti e quindi manca un progetto sociale. Allora quando c'è Podemos in Spagna che fa furore è perché finalmente fornisce un progetto sociale con il quale tra l'altro io non sono d'accordo, ma è una buona idea da un punto di vista teorico. Allora quale sia il progetto umano? Chiedere al politico, quello con la P maiuscola però di cui ce ne sono pochi, ma oltre a mettere la benzina nella macchina, dove andiamo? Perché tutto quello che fa oggi la politica, nel migliore dei casi, è occuparsi del GDP, cioè del PIL, è occuparsi della disoccupazione, della sicurezza. Queste sono tutte condizioni necessarie per avere un progetto, ma non solo il progetto. Allora qui bisognerebbe lavorare e noi un progetto del XXI secolo non ce l'abbiamo perché in Europa il progetto fino all'altro ieri, fino ai miei genitori, è stato quello di ricostruire l'Europa. Quando mio padre mi ricorda guardare le cose non vanno così male perché io da bambino ho visto carri armati tedeschi e americani a Roma, quindi insomma il fatto che non si va, pazienza ecco. Questo va ricordato perché lì c'era un progetto di ricostruzione e oggi questo non è sufficiente, a meno che appunto l'Europa non esploda. E in ultimo, vi ricordate quelle quattro centralità che noi abbiamo abbandonato? Ma noi oggi che centralità possiamo recuperare dopo millenni di consapevolezza di questa centralità non esistente? Non sarà il caso di cominciare a costruire una eccezionalità umana sulla base di essere alla periferia del discorso? Questa periferia del discorso è esattamente quello che è avvenuto e qui chiudo in molte parti dell'etica applicata oggi. L'etica medica, l'etica ambientalista, l'etica informatica come vi ho un po' spiegato oggi, è un'etica rivolta al paziente, a chi riceve l'azione, non a chi la emette. Non è una domanda su chi sono io e cosa faccio, è cosa posso fare per te e chi sei tu. In questo scambio di rapporti sta l'inizio di un possibile sviluppo per il ventunesimo secolo. E con questo io lascerei il tempo per un po' di domande e risposte. Grazie. Grazie professore. Allora ci accomodiamo qui per raccogliere qualche domanda dopo questa... Ecco siamo già pronti in questa conferenza interessantissima, sono sicura che... Professore preferisce più di una domanda alla volta o una alla volta? Allora se sono difficili tante tutte insieme così io non rispondo. Ecco perfetto. Se invece è facile l'affronto una a una. Allora andiamo una a una, vediamo un po'. Buonasera, grazie per l'interessante presentazione. Intanto faccio una considerazione, ci sono due assunti forse impliciti in questa presentazione. Una è che la relazione uomo-macchina, uomo-tecnologia, sia uomo-informazione sia appunto individuale. Non c'è, non si vedeva troppo, forse non l'ho colto troppo io, l'aspetto della tecnologia nelle relazioni o attraverso le relazioni. E questo mi porta a rispondere alla terza domanda, che forse la nostra centralità, un po' prima di Cartesio con Aristotele, è quella di essere sociale. La domanda etica fondamentale è appunto come le ICTs cambino la nostra socialità. E l'altro aspetto che è un po' implicito, mi sembrava di vedere, è che sembrava appunto che le tecnologie si imponessero con i loro copioni, i loro script, a quello che faremo. Però tante volte ci è capitato di usare in maniera intelligente e anche innovativa delle tecnologie e inventarci appunto dei modi di reagire. E quindi mi chiedo appunto se non sia anche il caso di appunto concepire una etica basata sia appunto sul cambiamento della socialità che sulla capacità creativa negli usi della tecnologica. Sì, questo posso rispondere? Allora, lei ha molto ragione. Diciamo è nei limiti della presentazione non poter coprire tutti gli aspetti, ma questi sono due aspetti importantissimi. Allora, due veloci battute per dimostrare quanto sono d'accordo con lei. La prima è che se ci si mette tutti quanti in periferia, si finisce un po' come quelli che non entrano al ristorante, perché entri tu, no entri tu, no entra tu, no entra tu. Allora c'è un modo per uscire da questo paradosso, cioè dal paradosso per cui tutti quanti siamo all'esterno e nessuno è al centro. Ed è esattamente quello di mettere in funzione chiave la relazione. La relazione tra marito e moglie non è chi è al centro dei due, è il matrimonio che sta al centro. Se il matrimonio sta al centro allora lui e lei possono stare in periferia, così per l'amicizia, così per i rapporti sociali. Allora la politica non è chi gestisce la politica al centro del potere, ma chi tra tutte quante le parti eccentriche al potere determina una politica in maniera esterna. Allora questo è un po' utopistico, ma bisogna avere anche qualche ideale per andare da qualche parte, quindi sono completamente d'accordo con lei. L'ultima battuta sugli aspetti sociali è in realtà più cinica e meno utopista. Purtroppo i social media che noi abbiamo oggi sono fatti esattamente per sfruttare la nostra natura aristotelica di animali sociali. Cioè noi siamo animali che vogliono comunicare e non ci pare vero di poter comunicare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana con qualcuno che ci sembra, non è vero, che ci stia a sentire. In realtà non è sempre un monologo su Facebook e così via. Allora in questo caso in realtà noi siamo un po' come dei bambini ai quali è stato promesso entrata gratuita 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana al negozio dei dolci gratuiti. Che succede? Tutti obesi, inevitabilmente. E qui bisogna fare qualche seria considerazione etica. Grazie. Prego. Qui al centro abbiamo... Se volete dirci anche come vi chiamate. Sì, buongiorno. Sono Jacopo. Ringrazio perché la presentazione è veramente interessante. Avevo due domande su alcuni aspetti che ha toccato, che volevo capire un po' meglio. Lei arrivava alla conclusione su una parte dicendo che la privacy zero corrisponde alla deumanizzazione. Perché facciamo la fine della farfalla, diciamo, attaccata con lo spillo? Ma perché le informazioni che mettiamo in internet non passando... cioè una cosa che diciamo a voce passa un anno, passa un mese, passa via e noi diventiamo una persona diversa passando il tempo. Una cosa che mettiamo in internet invece rimane lì. Come anche il discorso di Google che doveva togliere dai motori di ricerca alcune informazioni di, non so, una fedina penale che veniva... eventi che hanno successo a una persona che potevano ledere il suo futuro. Perché rimanevano lì per sempre. Quindi volevo capire un po' meglio questo aspetto qua. Se è effettivamente questo, quello che ho capito, o se c'è anche qualche altro aspetto. Poi sul discorso dell'esempio che ha fatto del rumba, del divano, che bisogna... dobbiamo scendere molto a compromessi e il mondo diventa qualcosa più per le macchine che per noi. Però l'obiettivo, cioè le macchine le costruiamo noi, è un compromesso a cui scendiamo per far meno fatica. Cioè è vero, sì, ha dovuto cambiare divano, però non deve più passare l'aspirapolvere. E quando aveva l'aspirapolvere e doveva collegarla alla spina, doveva stare attento a non inciampare sulla spina, l'ha fatto per evitare di dover avere la scopa, di dover avere... e via così. Quindi sono compromessi che semplificano tutta la vita. Quindi penso che la maggior parte di chi in quest'aula preferirebbe forse cambiare divano o il prossimo divano prenderlo rumba, friandoli, piuttosto che dover passare un'ora, mezz'ora, un'ora rozze. Sono sempre stati compromessi. Quindi secondo me, almeno nella sua visione, per come l'ho capita, mi sembra un po' più conservatoristica, diciamo, piuttosto che... però è un compromesso che abbiamo sempre passato. Ecco, volevo capire un po' meglio questi aspetti. Grazie. Cercherò di essere breve. Sul primo punto complicatissimo, che è quello del rapporto tra identità personale, dignità umana e privacy, potete immaginare che sono biblioteche, velocissimamente è il controllo dell'informazione che è fondamentale. Una volta che noi abbiamo rilasciato il controllo di quell'informazione, non siamo più noi a controllarla, qualcun altro la controlla per noi. Allora con una battuta veloce, che è un po' da 1984, è chi dà forma alle domande influenza le risposte e chi influenza le risposte controlla la realtà oggi. Quindi chi controlla le domande, controlla alla fine anche il mondo. Se controlla le mie domande, che sono poi i miei gesti di non so questo, vorrei saperlo, un altro modo per parlare di Google, finisce poi per avere molto più controllo sull'individuo e poi dargli forma. Sulla seconda questione, i compromessi che noi facciamo sono a volte buoni, ma a volte pessimi. E quindi tornerei forse anche sulla prima domanda, cioè non c'è necessità in questo, assolutamente. Mi dispiace se qualcuno ha avuto l'impressione che ci sia questo treno della storia che va e noi siamo soltanto come dei passeggeri sopra. È vero tuttavia che non c'è necessità, ma una volta che hai preso quel treno, prima di scendere, devi aspettare la fermata successiva. Cioè certe scelte tecnologiche che noi facciamo oggi hanno delle conseguenze che prima di disincagliarsi da quell'influsso ci vorrà del tempo. Questo non vuol dire che non siamo in controllo. Alla fine la responsabilità sarà tutta umana se le cose vanno male o bene, ma vuol dire che ci sono tempi lunghi. E una volta che noi abbiamo comprato il divano per rumba, va bene così, ma la volta che noi, ad esempio come è avvenuto in una città che io frequento molto perché, senza dare troppi dettagli, ha stabilito che il parcheggio della stazione è pagabile soltanto con telefonino associato a carta di credito, quella soluzione tecnologica ha tolto di mezzo una gran parte della popolazione che accade essere studentesca e che in genere non ha la carta di credito. Ovviamente c'è una rivoluzione e torni al sistema di prima con le monetine, ma l'idea del burocratio è stata, vedi che bella trovata, no, era una trovata che adattava la tecnologia ai suoi bisogni, non ai nostri. Chi oggi non si è sentito dire una volta in vita sua, guardi professore, bisogna fare così, è l'unico modo in cui il computer, dot, 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 non vive in questo mondo. Allora certi compromessi non andrebbero fatti. E torniamo alla domanda precedente, dove è la nostra libertà e dove vogliamo andare le cose? Molto chiaro. Prego. Buonasera, professore. Quello che mi è parso di notare da questa sua presentazione, pur nel tono gioviale, colloquiale, è una sorta di inquietudine di fondo su quelli che sono i potenziali pericoli di un fenomeno che, come dire, forse non comprendiamo abbastanza, non ci riflettiamo abbastanza, o forse ci facciamo trascinare abbastanza. E anche se questo può far pensare a quello che uno scrittore definiva il complesso di Frankenstein, cioè la paura di essere distrutti da una cosa che noi costruiamo, temo che ci sia del vero in questo, ma nella sua ottica di persona che studia questi fenomeni e, come dire, contribuisce anche a suggerire eventuali soluzioni per questo. Lei da quale parte si pone? Cioè, come ottimista o come pessimista su quelli che possa essere la nostra capacità di controllare questa situazione o porgli quantomeno dei freni? Sì, è un termine che non mi piace molto, ma degli indirizzi, ecco, che forse dovrebbe essere il principio più puro della politica nel senso più alto del termine, cioè come l'arte di vivere insieme nella polis. Ottimista o pessimista? Allora qua io me la cavo citando male Gramsci. Se non vi ricordate, Gramsci diceva che bisogna avere l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, uno vede le cose come vanno, però l'ottimismo della volontà deve restare. Io lo cito male e dico, nel mio caso, io ho l'ottimismo della volontà e la frustrazione della ragione, perché le opportunità ci sono e che non le stiamo cogliendo. Cioè noi, circa vent'anni fa, certamente in Europa, oggi, ancora oggi in Italia, abbiamo staccato la spina della politica dal mondo dell'informatica. Abbiamo detto, è una tecnologia come tante altre, come l'aviazione, come la ruota, che ci importa? Non abbiamo capito che quella tecnologia andava a costruire un mondo dove noi oggi viviamo. A quel punto la politica ha cercato di recuperare il tempo perduto e lo sta facendo però non a colpi di progettualità, come dicevamo prima, ma a colpi di legislazione, tra l'altro, in corte. Cioè oggi la nostra difesa arriva attraverso la European Court of Justice. Questo è l'ultimo stadio in cui tu fai politica, quando la politica la fai al tribunale. Per fortuna adesso è arrivato anche il GDPR, cioè il General Data Protection Legge, che dovrebbe subentrare tra due anni. Ma capite che la politica è in ritardo. La politica è in ritardo, ha lasciato lo spazio, lo spazio è stato occupato, qualcuno dove occuparlo l'hanno occupato le industrie. Quale industrie? Industrie della California. Allora oggi noi abbiamo dato le chiavi di casa, che si chiama Società delle Informazioni, in mano a dei signori che non sono, tra l'altro, accountable da un punto di vista politico. Nessuno li ha eletti. Sono delle bravi persone? Sì, e lo credo. Io incontro, ci lavoro insieme, sono delle bravi persone. Lo saranno sempre? E questo non lo so. Li possiamo fare cambiare idea se noi non ci piace quello che fanno? No, perché non sta a noi. Questo è business. Allora qui la mia frustrazione e le opportunità ci sarebbero, ma non le stiamo proprio cogliendo. e la miopia politica è mastodontica, è mostruosa. E questo è veramente preoccupante. In tutta Europa. Inquietante. Prego, qui davanti. Circa il tema del controllo delle macchine sull'uomo. Mi sembra che quasi il 50% delle altraggiazioni finanziarie oggi sono fatte da automi intelligenti, non da umani che fanno delle azioni economiche. Qualche anno fa, recentemente, giravano degli articoli di esperti di intelligenza artificiale che dicevano che il rischio dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale sarà che le macchine che imparano dall'esperienza saranno così potenti che capiranno, potrebbero capire che l'essere più pericoloso per l'uomo è per l'uomo stesso e quindi attivare, innescare un meccanismo per uccidere l'uomo, sostanzialmente col motivo di proteggere l'uomo. E sembrano scenari, probabilmente in là nel tempo, ma che hanno una loro credibilità. Com'è che secondo lei ci si può difendere da queste cose? Perché lì effettivamente il meccanismo sembra che non, non sembra di vedere la stazione da cui poter scendere in qualche modo. Non è un problema di etica o di controllo dell'informazione, va molto oltre. Non so. In realtà è una cosa ragionevole? Sì. O è fantascienza. Allora, iniziamo a dire subito che è fantascienza e quindi non ci dobbiamo preoccupare. Però è una brutta fantascienza. C'è una fantascienza che ci distrae dai problemi effettivi. Quando voi entrate in una stanza e la prima preoccupazione che avete, una stanza buia, è che ci saranno dei mostri dentro, invece di preoccuparvi di dove sta il tavolino per non sbarciarci contro, lì sta il problema. Cioè noi problemi qui ne abbiamo di serissimi. Ad esempio di impiego, ad esempio di trasformazione dell'ambiente a misura di macchina, non di uomo e così via. Controllo da un punto di vista delle scelte politiche. Possiamo farne oggetto di un'altra domanda. Questi sono i problemi veri. Il problema di un'intelligenza artificiale che diventa sempre più intelligente a un certo punto prende il controllo del mondo e raggiunge questa singhioranza light, questo momento di trasvolgimento, tale che continua la sua corsa verso l'intelligenza e noi restiamo indietro, diventiamo una specie di specie, di gattino per questa intelligenza artificiale. Questo io lo lascerei a Hollywood, perché lo fanno bene. Il resto è ciarpane. Ed è oggi grave, perché i problemi seri ci sono. Allora dobbiamo proprio occuparci di fantascienza, quando in realtà le cose difficili ci sono oggi. E non è una questione domani, dopo domani. Noi, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, non abbiamo idea di come si possa costruire qualcosa che è intelligente come un topo. Quindi finché qualcuno non mi dimostra che qualcosa può essere intelligente come un topo, io sarei proprio tranquillo. Ci sono cose pressanti, veramente gravi, che andrebbero messe nell'agenda all'inizio. Purtroppo di questi dibattiti per uno come me ne facciamo a dozzine, soprattutto perché io ho alcuni colleghi a Oxxo che difendono esattamente la posizione opposta. Prego, un'altra domanda. Sì, buonasera. Intanto grazie per la bella presentazione. Mi chiamo Morris. Volevo chiederle se come vede lo scontro diciamo che è già in atto tra i colossi di internet come ad esempio Google, quindi Larry Page o Zuckerberg, con i servizi diciamo anche governativi delle varie nazioni. Cioè avverrà uno scontro secondo lei oppure ci sarà un punto di incontro per cui chi è eletto avrà accesso a delle informazioni attraverso questi che ormai sembrano colossi inarrestabili, diciamo, che forse anche i governi stessi attraverso le proprie agenzie non riescono a contenere, diciamo. Ecco sì, la domanda è questa. Il potere dei grandi del web. Sì, domanda difficile. Molto. Forse due commenti piuttosto che una risposta. Il primo è che va molto di modo a dire, almeno da quando Lessing ha pubblicato il suo libro in poi, che il code is law, cioè che il codice fa parte delle regolamentazioni del nostro mondo. Noi viviamo anche sulla base di questi codici, nel senso di code informatico. Però non ci dobbiamo dimenticare che è soprattutto vero il contrario, cioè che la legge determina tutto il fattibile. Se domani Bruxelles, Berlino, Londra, Roma decide di staccare la spina, a qualunque cosa, la spina è staccata. Vedete cosa è successo con il nucleare in Germania? Da un giorno all'altro si decide che il nucleare non si fa più. Non mi sembra una buona idea, ma è fattibile. Allora, il mondo del politico ha dalla parte sua la legislazione e nulla taglia più a fondo la società di una legge. Questo va ricordato e questo ci ricorda anche perché le società americane sono così potenti, ma anche così fragili e sono consapevoli della loro fragilità. Allora, in questo senso, lì bisogna fare un'ultima considerazione che è quella di una crisi dei fondamenti dei nostri diritti umani. Fino all'altro ieri noi abbiamo costruito i diritti umani su una linea. Se voi guardate la dichiarazione universale, li mette tutti sulla stessa fila, non dice che uno è più importante e l'altro meno. L'unico cappello alla dichiarazione è quello sulla dignità umana. Cioè c'è la dignità umana e poi ci sono tutti gli altri diritti sulla stessa riga. Oggi abbiamo scoperto che nel mondo dell'informazione non è più così. Cioè voi ad esempio prendete la sicurezza alla quale abbiamo diritto e la privacy alla quale abbiamo diritto e non vanno d'accordo. Allora già questi due, come quello ad esempio della privacy e della sicurezza, non sono più sulla stessa riga. Come li ordiniamo? Questa è una questione politica. Non dovremmo farceli ordinare dal privato, ma non perché il privato sia cattivo, ma perché non è proprio adetto al lavoro, cioè non è quello il lavoro che fa lui. Allora la risposta alla sua domanda è speriamo che mandano le cose in maniera diversa. Possono andarci, dovremmo fare uno sforzo per mandarle in quella direzione diversa. Ok, abbiamo tempo per un'ultima domanda. Prego. Grazie. Grazie del talk molto interessante. Riguardo al problema della privacy e invece ai fantaproblemi della singolarità delle macchine superintelligenti eccetera eccetera, forse non è il caso di accorgersi che le persone nelle vite quotidiane interessano molto di più problemi così appealing, così interessanti come quello della singolarità delle macchine superintelligenti e invece il problema della privacy è tutto sommato proprio perché non ha né una storia filosofica alle spalle molto solida o molto riconosciuta né è un problema molto semplice e per questo diciamo le persone sostanzialmente rischiano di metterlo dalla parte. Cioè quello che interessa a noi nella vita quotidiana è utilizzare Facebook, utilizzare i servizi che ci danno gratuitamente o meglio in cambio del nostro lavoro gratuito per loro e non leggere quella cosa complessa che è scritta in maniera terribile come i terms e conditions all'inizio dell'utilizzo. Quindi sostanzialmente forse non dovremmo cercare di trovare un modo per rendere più chiaro, più diretto e più accessibile a tutti il problema della privacy, i problemi etici rilevanti rispetto a quelli che sono problemi non così attuali e reali oggi però hanno molta più presa su di noi. Sì, certamente sì. Io sarei anche qua un moderatamente ottimista. Si tratta di attendere con pazienza e far sviluppare una sensibilità a questi problemi che noi non abbiamo. Ma vi ricordavo che questo è avvenuto nel giro di qualche decennio. Quanto ci è voluto per sviluppare una sensibilità nei confronti ad esempio dell'etica animale? Ma guardate che come abbiamo trattato gli animali per millenni è una cosa scandalosa. Oggi se dai un calcio a un cane ti mettono in prigione. Allora, questa è un po' l'idea di un passaggio di sensibilità tale che certi problemi diventano emergenti altri non sono più problemi. Oggi una ragazza madre, sinceramente almeno dalle parti dove vivo io, non interessa. Non è proprio un problema al quale bisogna dare una risposta. Ai tempi di mia nonna era una cosa seria, molto seria. Allora, in questo contesto io sarei moderatamente ottimista che con questi dibattiti, con un po' di buona volontà, con un po' di politica decente, con un po' di sbattere la testa contro il muro e capire che forse in quella direzione non bisogna andare. Insomma, con il solito modo in cui noi procediamo, nella nostra storia umana, per tentativi, arriveremo a un punto in cui penseremo, ma pensa, guarda, ma tu ci credi che all'inizio del millennio questi davano i dati via così? Roba da mattia. Cioè fumavano nei cinema, davano i calci ai cani, sporcavano per terra, davano i dati via così come se non fosse nulla. Oggi, cose inconcepibili. Forse c'è un fattore tempo però importante, dovremmo velocizzarci un po' rispetto al passaggio. Bene, ancora una? Abbiamo tempo? O no? Guardo, ultimissima. Prego. Grazie. Io sono qui per voi, quindi non vi preoccupate per me. Grazie. Paolo, professore. Sempre io. Leggevo in questi giorni una cosa bellissima. Chiarezza e trasparenza sono due cose completamente diverse e non è così scontato. Con quale delle due siamo più avanti a proposito di privacy? O meno siamo messi meglio? Sì, un'altra bella domanda. Dunque la chiarezza sta in quello che uno ha detto e la trasparenza sta in quello che c'è dietro a quello che uno ha detto. Per la trasparenza bisogna fare attenzione perché ci sono mille ragioni per non essere trasparenti. La opacità a volte è una cosa buona, va di pari passo con la privacy. Io quel vetro lo vorrei opaco, no, in quel contesto perché sto nel bagno. così come che cosa ho votato oppure no, vorrei che fosse una domanda che si possa fare perché viviamo in una democrazia. Quindi qualunque domanda è una domanda legittima, ma alla quale io sono tenuto a non dare una risposta se voglio. Quindi di nuovo, non trasparenza ma opacità. Sulla chiarezza no invece, la chiarezza andrebbe vista più in termini di una cosa buona, un po' come la cioccolata, è sempre buona. E tornando un po' ai temi trattati oggi. Allora, mentre sull'opacità e trasparenza bisogna fare attenzione, perché non sempre la trasparenza va di pari passo con la privacy, sulla chiarezza no, la chiarezza andrebbe sollecitata e difesa quasi a qualsiasi costo. Mi fanno segno ancora, io vado avanti finché qualcuno non mi dice stop definitivo, anche se mi era già stato detto stop definitivo, sappiate, per cui sto disobbedendo. Dov'è la domanda? Ci cacceranno io. Eccola qua, qui al centro c'è una signora con gli occhiali, arriva il microfono. Eccoci qua. Buonasera professore, Evidina. Allora, io credo che questo discorso sia molto interessante sotto il profilo della filosofia della politica invece. L'unica cosa che le chiedo è, secondo lei, perché non si parla più di e-government? Cioè perché gli stati nazionali hanno abbandonato l'interesse per appunto una sorta di governabilità anche dal punto di vista appunto di partecipazione attraverso la rete? In Italia ad esempio abbiamo l'agenzia digitale, se non mi sbaglio, che però non funziona in mancanza dei decreti attuativi. E secondo lei come si può conciliare l'e-government con ad esempio una società liquida, così come parla appunto Bauman, o comunque anche, insomma ho sentito anche parlare di moltitudine, mi sembra, Art, insomma altre filosofi. Quindi come si può conciliare? Mi sembra che lei abbia dei dubbi circa il privato, cioè si approprii quasi di questi dati che ci riguardano, per poi farne un cattivo uso. Ma allora a questo punto perché gli stati nazionali non intervengono? Hanno paura che poi i cittadini possano intervenire e quindi avere uno status di cittadinanza appunto digitale? Grazie. Sì, questo è un dibattito che non finirà certo oggi. Cioè noi proveniamo da una cattiva concezione della democrazia che delega il potere. Noi abbiamo pensato per molto tempo che delegavamo il potere, perché non si poteva, semplicemente per ragioni tecniche, decidere tutti insieme. Eravamo tutti quanti nel villaggetto, avremmo fatto, no, ad alzata di mano. Purtroppo siamo in una società complicata, allora deleghiamo altra gente per fare decisione. Ma non è così. Questa storia qui non è questa la storia. Da sempre il concetto di democrazia si basa sulla divisione tra chi il potere ce l'ha e chi lo gestisce. Se tu hai questa separazione, cioè la fonte del potere e la gestione del potere, sei in una democrazia. Se le due stanno insieme, hai una dittatura che sia della maggioranza, che sia di un individuo, sia il faraone, il generale, il matto di turno. Allora chi, no, se questa sovrapposizione è completa, allora lì c'è il rischio. Ed è per questo che, no, democrazie avanzate fanno un uso molto attento del referendum, della consultazione diretta della popolazione, eccetera. Perché lo sanno che questi sono i rari casi in cui chi ha il potere lo gestisce. È come dire una medicina molto seria che va presa in questioni assolutamente drammatiche, ma che non può essere all'ordine del giorno. Perché se fosse all'ordine del giorno vorrebbe dire, semplicemente, dare a chi il potere lo ha il diritto di gestirlo. Chi il potere lo ha deve legittimare chi lo gestisce. Il problema, ad esempio, nel nostro paese non è questa separazione. È che chi oggi gestisce il potere non sente più la legittimazione da chi il potere glielo ha dato. Allora se queste due parti, no, chi ce l'ha e chi lo gestisce, e chi lo gestisce viene legittimato da chi ce l'ha, questo meccanismo si rompe. Che cos'è che si è rotto? Si è rotta la legittimazione. Il fatto che noi non crediamo più che quella gente stia lì a gestire il potere che gli abbiamo dato noi. Io lì proverei a introdurre una soluzione di tipo tecnologico, di rilegittimazione, quindi trasparenza e accountability di chi il potere ce l'ha. Ma non quindi in versione chi il potere ce l'ha lo gestisce, ma in versione di chi il potere ce l'ha controlla chi lo gestisce. E lo controlla bene. A quel punto entriamo in un circolo virtuoso di democrazia. Capite che questa ingegneria politica, non da tutti i giorni, ci vorrà un po' di tempo per implementarla, diciamo così, ottimisticamente. Grazie professore. Come vede questo è un argomento su cui si potrebbe andare avanti, lo sa, molto più che una sera. Noi ringraziamo moltissimo il nostro pubblico, ringraziamo moltissimo il professor Floridi. Le auguriamo... Grazie per tutti gli spunti di riflessione che ci ha dato, le auguriamo un buon rientro a Oxford, l'aspettiamo presto nuovamente a Padova, e invece al pubblico di Segnavie diamo appuntamento con la matematica, con Giuseppe Mingione, il prossimo 26 settembre. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.